E' fondamentale rispettare le seguenti norme. Uscire di casa solo in caso di necessità. Evitare le aree affollate. Mantenere la distanza di sicurezza di un metro gli uni dagli altri. Evitare contatti fisici compresi i saluti. Lavare spesso e accuratamente le mani. Insieme ce la possiamo fare, ma è indispensabile essere prudenti. Grazie a tutti. 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 O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi, San Pio da Pietricina, prega per noi, Ave, 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 Ave Maria. Nel primo mistero del dolore contempliamo la preghiera e l'agonia di Gesù nell'orto dei Gezzemani. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù andò con i suoi discepoli in un podere chiamato Gezzemani e disse loro, sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E avanzato su un po' si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Vittaci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le animi, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle grazie. Prega per noi. San Pio da Pietricina. Prega per noi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna nel pretorio di Pilato. Dal Vangelo secondo Marco. Ma i sommi sacerdoti sobbillarono la folla, perché Pilato rilasciasse loro piuttosto Barabba. Pilato replicò, che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono, crocifiggilo. Ma Pilato diceva loro, che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte, crocifiggilo. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle grazie, prega per noi, San Pio da Pietricina, prega per noi, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nel terzo mistero del dolore, contempliamo Gesù coronato di spine e oltraggiato dai soldati, dal Vangelo secondo Matteo. Allora i soldati del governatore, condussero Gesù nel pretorio, e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, e intrecciato una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo scarnivano, salve, re dei giudei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Glorie al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli, nei secoli. Amo. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo a tutte le anni, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel quarto mistero del dolore, contempliamo Gesù condannato a morte, carico della croce, che sale al Calvario. Dal Vagelo secondo Matteo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti, e lo portarono via per crocifiggerlo. Mentre lo uscivano, incontraron un uomo di sirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a prendere su la croce di lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi, San Pio da Pietrecina, Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù che muore in croce alla presenza della sua afflittissima madre. Dal Vangelo secondo Giovanni Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre, e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre, Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo, Ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più sognose, della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi, San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, Ave Maria, Ave, ave, Ave Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulce do, espes nostra salve. Ave te clamamus, exules filieve, ave te suspiramus, che mentes e flentes, in ag lacrimarum valle. Eia, Gergo, advocata nostra, e los tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iegesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria. Signore, Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudisci. Cristo, esaudisci. Padre celeste Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, Santa Trinità Unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre Purissima, Madre Castissima. Madre inviolata, Madre intemerata, Madre amabile, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudentissima, Vergine degna di venerazione, Vergine degna di lode. Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio della Giustizia, Sede della Sapienza, Causa della nostra Letizia, Dimora dello Spirito Santo, prega per noi, Vaso degno di onore, prega per noi, Modello di vera pietà, prega per noi, Rosa Mistica, prega per noi, Torre di Davide, prega per noi, Torre di Avorio, prega per noi, Tempio d'Oro, prega per noi, Arca dell'Alleanza, prega per noi, Porta del Cielo, prega per noi, Stella del mattino, prega per noi, Salute degli infermi, prega per noi, Rifugio dei peccatori, prega per noi, Consolatrice degli afflitti, prega per noi, Aiuto dei cristiani, prega per noi, Regina degli angeli, prega per noi, Regina dei patriarchi, prega per noi, Regina dei profeti, prega per noi, Regina degli apostoli, prega per noi, Regina dei martiri, prega per noi, Regina dei confessori, prega per noi, Regina delle vergini, prega per noi, Regina di tutti i santi, prega per noi, Regina concepita senza peccato originale, prega per noi, Regina Assunta in Cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Regina dell'Ordine Serafico, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Esaudisci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo Amore secondo l'intenzione del Santo Padre per l'acquisto delle santi indulgenze. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Per tutti i fedeli defunti, l'eterno riposo dora loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amo. Affidiamo il Santo Padre, la Chiesa, le nostre famiglie, le nostre comunità, il mondo intero, alla protezione dell'Arcangelo, San Michele. Salmi che l'Arcangelo difendisci nella battaglia. Sii Tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di Lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E Tu, Principe della milizia celeste, con la potenza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo per perdere le anime. Amen. Preghiera a San Pio da Pietelcina di Papa Giovanni Paolo II. Umile ed amato Padre Pio, insegna anche a noi. Ti preghiamo l'umiltà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno, prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede, capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova. E se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la Patria Beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Pio da Pietrelcina, San Giovanni Paolo II, e ora concludiamo con il saluto della buonasera alla Beata Vergine Maria delle Grazie. Buonasera, Madonna mia, tutto il mondo a te s'inchina. Per quel frutto che portasti, tutto il mondo illuminasti. Illumina l'anima mia. Buonasera, Madonna mia. Tu sei la Madre mia, Immacolata Concezione. Da noi tutti la tua santa benedizione. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Il Padre che vi ha redento con l'olocausto del suo Figlio, a cui si associò la Madre addolorata, vi faccia partecipi del grande mistero della salvezza. Dio che guidò la Vergine Maria sulla strada del dolore, al vertice dell'amore crocifisso, vi aiuti a crescere nella fede fino alla carità perfetta. Possiate portare in voi l'immagine del Cristo sofferente per condividere al termine della vita terrena la sua gloria immortale. e la benedizione di Dio onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Illuminati dall'esempio e protetti dall'intercessione materna di Maria, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, ave Maria, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Salva, salva i tuoi figli, guida 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 il cielo, sovreggi tu la speranza nel cuo. Ave, ave Maria, ave, ave Maria. O Maria amabile, doni al mondo il salvato, fa che ogni uomo incontri il Signore e si diffonda tra i figli l'amor. Ave, ave Maria, ave, ave Maria. Buona e santa notte a tutti. Grazie a tutti.